Dopo le polemiche e le segnalazioni siamo venuti a vedere la situazione nel lab vaccinale di Via Ficara. La situazione, come vedete alle nostre spalle, è abbastanza tranquilla. C'è l'incaricata della protezione civile che chiama le persone. La difficoltà è quella di gestire due piattaforme, quindi due liste di prenotazioni, però pian piano questo meccanismo si sta rodando. L'ASL ha sempre raccomandato un po' di pazienza, ma ha chiesto scusa anche al tempo stesso dei disagi. È certo che quello che si evince in alcune situazioni che abbiamo avuto modo anche noi di constatare è che molto spesso le persone che hanno un orario di appuntamento si presentano molto prima e con quello purtroppo si creano gli assembramenti. Però l'ASL sta cercando di organizzare il tutto al meglio e si valuta anche l'ipotesi di aprire in città un terzo hub vaccinale. Si valuta la possibilità di dotare la città di un terzo hub vaccinale o di un cambiamento di sede addirittura per Via Ficara, anche se per ora di più non è dato sapere e sono solo ipotesi per avere una migliore logistica e gestire al meglio l'utenza. Gli ultimi giorni all'Aquila sono stati caratterizzati da qualche polemica su file e assembramenti ai centri vaccinali, soprattutto a Via Ficara, dove è difficoltoso anche gestire la questione dei parcheggi, ma l'ASL, per onor del vero bisogna dirlo, ha sempre chiesto scusa dei disagi e invitato in qualche occasione a dotarsi di un poco di pazienza. Si sta gestendo infatti una macchina complessa in emergenza e la difficoltà maggiore in questo momento è quella di gestire due liste, le vecchie prenotazioni e quelle nuove sulla piattaforma di poste. Questa consente di scegliere giorno, ora al centro vaccinale, ma l'appuntamento non è preciso, si dà indicazione di massima, ad esempio dalle 12 alle 13, quindi l'utente va prima e come lui tutte le persone che si sono prenotate in quella fascia, queste prendono il numero e attendono, ma parallelamente c'è l'utenza che si era già prenotata con la vecchia piattaforma, per questo a volte si creano file e assembramenti esterni. Molto spesso però, ed è capitato anche dinanzi alle nostre telecamere, le persone si presentano anche un'ora prima dell'appuntamento, gli incaricati della protezione civile per gestire gli ingressi sono stati costretti a rimandare indietro le persone, dicendo di tornare all'ora esatta. I nervi però sono tesi ed è capitato che l'utenza si sia rivolta in più di un'occasione alle forze dell'ordine. La soluzione non è semplice darne, ma la ASD si starebbe muovendo in tal senso per una nuova sede, perché ognuno ha ragione, però di certo ci sono alcune categorie, gli anziani e i fragili, che hanno anche il diritto di attendere il loro turno in una condizione più agevole possibile. Per questo si studiano alternative e soluzioni per migliorare la situazione.